Bentornati ragazzi, oggi lasciamo da parte un pochettino le recensioni delle stampanti 3D e andiamo a vedere in dettaglio questo nuovo, in realtà vecchio, slicer chiamato Idea Maker. Perché vecchio? In realtà è solo perché nel 2017, lo avevo già accennato in quel video, se non te lo ricordi qui sopra trovi il link, lo avevo confrontato anche agli altri slicer come Simplify, Craftware, Prusa, no, non c'era ancora Prusa Slicer, c'era Slicer, eccetera, eccetera. Era ancora un po' troppo acerbo e quindi l'avevo lasciato perdere. Da gennaio di quest'anno ho iniziato a riprenderlo in mano e da maggio, anche prima, poco dopo il Covid, è diventato il mio slicer definitivo, nel senso che utilizzo solo questo al momento, ho abbandonato Simplify 3D perché l'ho abbandonato e semplicemente lo capirete nel corso di questi video. Quindi, grazie a tutti quanti i Patrons, come al solito, vi ringrazio tantissimo. Se non sapete che cos'è Patreon, qui in alto vi compare il link per vederlo, per vedere il link della nostra pagina Patreon, veramente grazie a tutti quanti. Questo è un video introduttivo, nel senso che vi spiegherò come funziona, dove scaricarlo, eccetera, eccetera. Per i prossimi due video, invece, spiegherò effettivamente come andare a creare un profilo per la vostra stampante 3D. Quindi, prima di proseguire, tre punti fondamentali, perché poi ho già sentito parlare in giro, eccetera, eccetera. Allora, la prima cosa è, uno, è gratuito. Ho sentito dire che era a pagamento, cosa è già? No, Idea Maker è gratuito, punto uno. Punto due, ho sentito dire che, eh, ma tanto è solamente per le stampanti 3D Raze, che, tra l'altro, sono diventato rivenditore. Qui sotto, in descrizione, trovate anche il link a tutti quanti i modelli della Raze. Comunque sia, no, non è bloccato con le loro stampanti, ma è un software libero, nel senso che può essere utilizzato per qualsiasi tipo di stampante, Delta o Cartesiana. Un po' come Cura, Cura, se ci pensate, è nato con le Ultimaker, però permette di inserire anche altri tipi di stampante, altri modelli di stampante. Punto tre, molti dicevano, eh, ma è solamente disponibile per PC. No, è disponibile per PC, quindi, scusatemi, Windows, Linux e anche Mac, quindi tutte e tre le piattaforme sono coperte. Detto questo, io direi, proseguiamo subito, quindi partiamo con una prima analisi del software e poi andremo nel dettaglio con i prossimi video. Per scaricare il software andate a questo link, ovviamente, lo trovate nella descrizione del video. Quindi andate a scaricarvelo quando andate su Download, dopo, eccolo qui, Free Download, come vi dicevo prima è gratuito, Windows, Mac, Linux, 32 e 64 bit. Altra cosa, molto, molto importante, come vedete qui c'è scritto Idea Maker, stavo per dire Ikea Maker, scusate, Idea Maker Manual. A questo link, che trovate sempre nella descrizione del video, trovate il manuale, cioè praticamente la lista di tutti quanti i comandi spiegata per filo e per segno. È veramente comoda, perché molte volte è disponibile anche, diciamo, qualche immagine che vi spiega, va nel dettaglio. Alcuni comandi, ho visto, sono spiegati un po' frettolosamente, però alcuni altri, insomma, vedete, sono corredati di immagini, quindi è una guida fatta molto bene. Per chi volesse è possibile scaricarla, vedete, Download Manual, quindi è possibile scaricare anche il PDF, e se scaricate il PDF trovate tutta questa lista qui direttamente in PDF. Eccola qui, come vedete, pac, e vedete c'è tutto quanto scritto in PDF, quindi per gli amanti del cartaceo, io voglio dire chi è il pazzo che si stampa tutta sta pappardella di roba, però, vabbè, per chi vuole consultarlo offline c'è tutto quanto. Quindi, una volta scaricato e installato il software, cosa ci troviamo? Allora, andiamo ad aprirlo. Eccolo qui. Allora, questa qui è la schermata che vi si pone davanti. Vabbè, adesso io sono registrato con Race Cloud, perché ho una stampante Race, e quindi ho tutti quanti i servizi collegati. Allora, come vedete, subito è in inglese, però, per chi volesse, è disponibile anche in italiano. Come facciamo a cambiare la lingua? Bisogna andare su Edit, Preferenze, e dentro Preferenze, al di là del fatto che potete attivare anche la possibilità di collegare il 3D Connection, e, diciamo, modificare altre voci a vostro piacimento, come, ad esempio, come far muovere, ad esempio, la rotazione dell'oggetto, il pan, lo zoom, eccetera, eccetera. Qui ci sono tutti quanti i comandi, diciamo, customizzabili. Mentre, per quanto riguarda la lingua, come vi dicevo, c'è l'English e ci sarebbe anche l'italiano. Allora, io non lo metto in italiano in questo momento, perché alcune traduzioni, purtroppo, portate pazienza, non mi garbano. E quindi preferisco tenerlo in inglese, anche perché, per la guida che vi ho fatto vedere prima, tutte le voci, ovviamente, sono in inglese. Quindi, se dovete trovare dei riferimenti, almeno avete l'esatta corrispondenza. Ad ogni modo, a vostro piacere, italiano, inglese, è un po' come Fusion 360, che una parte è tradotta, una parte no, io tengo in inglese. Ok. Allora, Idea Maker, ne avevo parlato tantissimo tempo fa. Adesso, come vi dicevo, lo sto utilizzando al posto di Simplify 3D. Simplify è questo qui, che avete visto nei miei numerosissimi video. Resta valido, ok? Nel senso che, purtroppo, è fermo alla versione 4.1.2, quindi sarà almeno un paio d'anni che non vedo una release, anche 3, probabilmente una release bella sostanziosa, e oggettivamente, a mio avviso, Idea Maker lo ha passato di brutto. Ok. Non chiedetemi se è meglio di cura. Vi prego, non me lo chiedete, perché cura non mi piace, ok? Non lo uso a fondo, al 100%, quindi non vi posso fare una valutazione oggettiva al 100%. Io vi dico che, rispetto ad esempio a Prusa Slicer, o a Simplify 3D, Idea Maker, diciamo che è una summa, è il risultato della fusione di due, praticamente, perché è tutte le funzioni di uno e dell'altro messi assieme. Quindi, andiamo a vedere come utilizzarlo a meglio. Vi ricordo, qui non vi farò vedere come si imposta un profilo, quello là lo vedremo in un altro video. Allora, per importare un modello, qui in alto c'è la voce Import Model, importiamo ad esempio, vediamo che cosa ho qui, questo qui ad esempio, eccolo qua, classico, al di là dello zoom e tutto quanto, eccetera, eccetera, noi qui possiamo, con la barra qua in alto che vedete, possiamo andare a muovere il nostro oggetto. Io ad esempio ho impostato che con la rotolina del mouse premuta vado avanti, vado a destra, a sinistra, su e giù, eccetera, eccetera, col tasto destro invece mi muovo con un Orbit. Dopo, se volete scalare l'oggetto, come al solito c'è il tasto Scala, e quindi vi permette di fare le varie trasformazioni che richiedete, Ruota, e quindi vi permette di ruotare l'oggetto, Classico, Move, vi permette di muoverlo e tutto quanto. Se dovete creare più copie dello stesso oggetto avete il tasto Duplicate, oppure Ctrl D. Allora, il tasto numerico non mi va, scusate, non me ne fa fare più di 5, eccolo qui, e qui in automatico vi fa il Nesting, il Nesting di tutti quanti gli oggetti, dopo, se volete, li potete selezionare singolarmente, 1, 2, 3, oppure col tasto Ctrl premuto, Shift premuto, scusatemi, non Ctrl, Shift, li potete selezionare più di 1, ok? Dopo, cosa abbiamo qui? La possibilità di riparare l'oggetto, cioè se vi capita di avere un oggetto, come ad esempio, proviamo a fare questa operazione qui, l'operazione di taglio, ad esempio, vediamo dove è, dove è, dove è, Free Cut, vi permette di tagliare un oggetto, quindi prendete l'oggetto, lo tagliate all'altezza che desiderate, qui potete avere il pannello per gestire tutti quanti i valori, c'è anche su Prusa Slice, una cosa del genere, lo tagliate, ecco, se vi capita alle volte di, di andare a praticamente, a lavorare con degli oggetti, che hanno questo, vedete, questo qua in basso a destra, questo triangolino, vuol dire che c'è un errore, probabilmente, nella mesh. Allora, integrato alla funzione di auto ripara degli oggetti, quindi, o qua in alto, vedete, potete selezionare, di riparare solamente determinati tipi di errori, oppure gli date direttamente repair, quindi, lui ripara in automatico, andiamo a selezionare l'oggetto, gli diamo repair, in automatico, lui ce lo ripara, vedete che viene fuori la, la spunta verde, idem, lo facciamo con l'altro oggetto, e siamo a posto. Dopo, come vedete, i due oggetti, in questo momento, non sono, o meglio, uno è appoggiato al piano di stampa, l'altro non lo è. Come su Prusa Slicer, e anche come su Simplify 3D, c'è la possibilità di metterli appoggiati con una faccia di questo oggetto, nel senso, senza star lì a prendere, fare move, eccetera, eccetera, io posso dirgli, direttamente, selezionandolo, quindi io seleziono un oggetto, se non mi si apre qua a sinistra la mia barra, diciamo il mio menu contestuale, vedete, io posso premere la prima, che è la parte relativa alla chiave inglese, quindi quando attivate il comando Rotate, con la chiave inglese si attiva il sottomenu di dialogo, col comando Scale, e col comando Move, insomma, vedete, col comando Move vi si apre tutta quanta un'altra serie di opzioni. La prima cosa da fare è ovviamente mettere On Platform, quindi lui ve lo spara, ve lo piazza giù, direttamente attaccato alla piattaforma di stampa. Make Center vi permette di metterlo in mezzo, quindi se li selezionate tutti e due, e fate Arrange All Models, vedete, vi fa un nesting, e Make Center eventualmente ve li sposta in mezzo, tipo così, così adesso sono sovrapposti, va bene, lasciamo perdere, e quindi questa cosa qui è la classica che abbiamo su tutti quanti, gli slicer in genere, però almeno capiamo come muoverci. Altra cosa molto importante è quella relativa a dire, ok, io voglio piazzarlo su questa faccia qui che vedete in alto, quindi voglio metterlo posizionato come questo, ma non voglio star lì a premere Rotate, Transform, girano di 180 gradi, scusatemi che ho sempre il tasto numerico che non funziona, eccetera, eccetera, quindi se non vogliamo fare tutta quanta questa serie cose di qua, tra l'altro funziona il Control Z, come vedete sono andato qui, ho sbagliato, sono tornato indietro con il Control Z, come vi dicevo qui, se vogliamo selezionare questa faccia qui che vediamo, allora tasto destro, qui c'è un bel sottomenu, di questo sottomenu al momento noi andiamo a selezionare Lay Flat, che è lo Shift più L, con il Lay Flat, vedete, si trasforma la visualizzazione Wide Frame, e andiamo a selezionare una qualsiasi di queste facce, per dirgli Applica, e lui in automatico ci piazza l'oggetto su quella faccia attaccato al piano, cioè potevo anche selezionare, che ne so questo, Applica, e lui ce lo posizionava attaccato al piano, nulla di nuovo ragazzi, non mi sto neanche a soffermare più di tanto, perché sono sempre i soliti comandi che girano un po' dappertutto, ok, quindi riseleziono Move, e vedete che sparisce anche il Wide Frame, dopo, come funziona? Andiamo a vedere altre cose, perché ad esempio selezionare, usare Idea Maker rispetto a Prusa Slicer? Punto 1 è per il discorso dei supporti di stampa, quindi primo versus, quindi Idea Maker versus Prusa Slicer, i supporti di stampa, perché uno sceglie Simplify 3D? perché ha i supporti manuali, ok, guardate qui cosa abbiamo, la tab supporti, è un pochettino come quella di Simplify 3D, quindi se noi andiamo a aprire la tab supporti di Simplify 3D, vedete ci sono delle analogie molto molto strette, ok, quindi questa e con questa qui, vediamo se riesco a metterle uno di fianco all'altro, eccolo qui, vedete, questo è Simplify 3D, questo qua è Idea Maker, notate qualche differenza, praticamente nessuna, ok, e tra l'altro funziona nella stessa maniera, allo stesso modo, quindi proviamo a metterlo in una maniera che non gli garba molto, quindi Lay Flat, lo mettiamo da questo lato qui, proviamo ad attivare i supporti per questa parte qui, gli diciamo, genera supporti in automatico, eccolo qui, anche qui avete la dimensione dei Pillars, quindi di questi, diciamo, parallelepipedi, più li mettete grandi, più lui li mette cicciotti, ok, quindi Clear, eccolo qua, vedete, sono più cicciotti, ma arriva meno in dettaglio nei pezzi dell'oggetto, lo vedremo nel prossimo video. Ad ogni modo, qui li potete mettere in automatico, oppure li potete andare a togliere, vedete, Remove, li potete andare a togliere singolarmente, o li potete andare ad aggiungere singolarmente, stessa identica cosa di Simplify 3D, cambia nulla, ok, quindi questa è la prima feature che per un slicer gratuito è decisamente, decisamente importante. Poi dopo, cosa abbiamo? Vediamo un attimino, scusate che ho fatto un po' di disastro, ok, allora Clear All Support, li tolgo tutti, altra cosa che abbiamo è, e ad esempio, perché meglio, ad esempio, Simplify 3D, o meglio, perché scelgo Prusa Slicer, di solito io, lo scelgo tantissimo, perché utilizza i cosiddetti modificatori. Vi ricordate quel video che ho fatto, tempo addietro? Ecco, su Simplify 3D, ad esempio, questa funzione importantissima, non c'è. Benissimo, qui su Idea Maker c'è, quindi è un po' come dire, come vi ho detto prima, Simplify e Prusa innestati assieme. In alto qui vedete, Modifier, Modifier funziona, la stessa identica maniera, di Prusa Slicer. Anche qui potete aggiungere, dei modificatori che vi propone il sistema, quindi un box, eccetera, eccetera, oppure potete andarli a creare. Quindi, in realtà, se seguite il video di Prusa Slicer, è la stessa identica cosa, vale anche qui su Idea Maker, cambiano un po' la disposizione dei comandi, ma il concetto rimane lo stesso. Infatti, se andate a vedere, guardate qui, io ho il modificatore, vado su Modificatore, e qui, vedete, mi dice, ok, su questo modello qui, posso o andare a modificare, le strutture di supporto, ma un po' inutile, tra virgolette, se tanto abbiamo i supporti manuali, ma in realtà, quando andiamo a modificarlo, proprio come modificatore, qui potete inserire tutta una serie di, di modificatori, come era su Prusa Slicer, identico, tipo, volete fare questa parte qui, un pochettino, no, volete, sì, facciamo in Fill Density, la volete fare al 100% questa parte qui, non c'è nessun problema, quindi 100%, e io gli do ok, e come andiamo a vedere poi, nell'anteprima, qui come vedete, ci sono, c'è il grigliato, qui in mezzo non c'è, ok, lo vediamo meglio, forse, vabbè, ma non dovrei neanche fare questa prova qui, perché è abbastanza ovvio, ok, andiamo a aumentare le dimensioni di questa cosa qui, ok, ok, ecco, questa parte qui voglio che sia al 100%, quindi Start Slicing, Slice, eccetera, eccetera, e via, ok, vedete qui, eccolo qui, vedete che questo pezzo è pieno, mentre il resto è vuoto, quindi si possono fare tutta questa serie di cosine qui, con Idea Maker, dopo, andiamo a vedere qualche altro, qualche altra chicca di questo programma qui, Allora, al di là del fatto che, come vi dicevo, gestisce tutte quante le stampanti 3D, quindi se dovete creare un profilo, come vedremo nel prossimo video, lo andremo a creare, seguendo determinate, diciamo, ha un modo di pensare diverso rispetto a Simplify, completamente diverso rispetto a Prusa Slicer, però comunque ha il suo senso, nel senso come gestisce i profili di stampa, allora, i profili di stampa li potete gestire, direttamente cliccando qui sul tasto, io lo chiamo Play, qui di fianco a sinistra, oppure andando direttamente su Start Slicing, qui vi vengono fuori i vari profili di stampa, vi chiede di selezionare, diciamo, la stampante, ogni stampante ha associato un materiale, ok, quindi di solito voi create il materiale, quel materiale poi può essere associato a varie stampanti, poi ogni materiale ha il suo profilo di stampa, è un modo un po' contorto di gestire le cose, ma nel prossimo video vedrete che vi verrà un po' più chiaro, però andiamo a vedere più che altro le feature del programma, poi le altre cose le vediamo nei prossimi video, allora, una cosa molto interessante, vabbè, al di là del fatto che, come Simplify 3D, ha la possibilità di gestire, se avete più oggetti nel piano, potete dargli praticamente dei diversi profili di stampa o delle diverse impostazioni per i vari tipi di oggetti presenti sul piano, è una cosa che ha anche Prusa Slicer, ormai ce l'hanno tutti, potete gestirlo per layer, quindi anche qui è possibile fare il change, il change fill, il cambiare colore a una certa altezza, Pause at 8 se volete chiamarlo, Pausa a una certa altezza, e come dicevo, potete gestirlo anche con il sequential printing, cioè se lo abilitate e impostate tutto nella stampante, lo vedremo nei prossimi video, potete far fare, ad esempio, avete 20 oggetti sul piano, lui ne fa uno alla volta, quindi ha anche la stampa sequenziale, e una cosa che trovo comodissima di questo software, è la possibilità di gestire praticamente dei parametri veloci, praticamente qui potete con il tasto più, inserire praticamente tutti, anzi senza praticamente tutti, i valori che volete, sono tutti i valori relativi al profilo di stampa, ad esempio sapete che in un profilo di solito modificate, che ne so, vedete il support type, pillar oppure normale, se sapete che è una voce che modificate spesso, ok, voi la potete mettere qui, in modo tale da averla sempre visibile, invece che ogni volta prendere, andare sull'ingranaggetto, trovare la tab del, diciamo del, mi si chiama, del parametro che ci interessa, ecco, lo potete mettere qui in basso a sinistra, così ce l'avete sempre disponibile, ok, come vedete, quindi questo qui è il profilo vero e proprio di stampa, come vi dicevo, questo qui è quello della stampante, nella stampante impostate le classiche cose, le dimensioni e tutto, più, anche con più extruder, quindi più estrusori o meno, qui, come vi dicevo, c'è la tab materiale, anche qui, interessantissima, è un po' come l'override di Prusa Slicer, quando selezionate un materiale, potete mettergli dei parametri, che vanno a sovrascrivere quelli del profilo di stampa, che state utilizzando, lo vedremo, ripeto, più in dettaglio nei prossimi video, altrimenti mi dilungo troppo, ok, anche qui avete un custom G-code per ogni tipo di filamento, devo dire, quasi tantroppi parametri, ok, infatti, la cosa più difficile di Idea Maker è capire cosa sovrascrive cosa, è quello che manda in confusione tutti quanti all'inizio, perché ad esempio, faccio un esempio veloce, la Flow Rate, che è il calcolo del flusso, può essere ad esempio vanificato da, ad esempio, questo valore qui, nella tab Advanced, dove c'è l'Override Filament Settings, e lui, se lo abilitate, prende questo valore invece di quello del filo, quindi se qualcuno lo attiva da qui, e modifica invece nella tab del filamento il flusso, non si ritrova più, quindi un casino della Madonna, lasciamo perdere, lo vedremo meglio, però ad ogni modo, trovo veramente ben fatto, soprattutto trovo tantissimi parametri, tra l'altro, che cosa ha questo, questo slicer che non ha Prusa Slicer e nemmeno Simplify 3D? Ha la funzione del, dell'ironing, quello di cura, ok, quello che vi fa la stiratura superficiale un po' più bellina, ok, Super Slicer, che è la fork di Prusa Slicer, ce l'ha, però, vabbè, anche questo, cioè, se io lo devo confrontare con Prusa Slicer, Prusa Slicer non ha quella funzione lì. Dopo in realtà ha una miriade di funzioni, una miriade di parametri da gestire e tutto, ottimissima la gestione dei supporti, ha l'adaptive support, quindi, quando avete tanti supporti senza generarle troppi, lui ne varia la densità in base al tipo di, diciamo, di zona da dare ad applicare i supporti, e anche per l'infill, ha l'adaptive infill, quando avete oggetti molto grandi, lui di base tende a svuotarli e tenerli vuoti, fin tanto che non c'è una qualche parte dell'oggetto che richiede, ad esempio, un maggiore infill, che ne so, i top layer di solito. Eccolo qui, vedete che qui è rado, 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 e man mano che mi avvicino alla superficie, lui lo aumenta in automatico, fino ad arrivare poi a fare l'infill top. Ci sono tante, tante soluzioni da scegliere per quanto riguarda il top infill, si può gestire addirittura il grado di flow rate per la superficie, proprio finale, 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 per quanti layer, veramente è da diventare matti, si possono selezionare tutti quanti i tipi di riempimento che vogliamo per le base, per i top, e dopo avete tutte quante le retraction, ottima la gestione delle cuciture, soprattutto questa qui, layer start point è la gestione delle cuciture, ci sono tanti modi di gestirla e soprattutto parecchi modi per nasconderla, perché anche qui come in Simplify 3D abbiamo il coasting, che ci aiuta anche in queste cose qua, abbiamo il wipe, e soprattutto per la gestione del doppio estrusore è veramente, veramente molto molto semplice, quindi super approvato. Ultima cosa, poi vi lascio, come avete visto lo slicing, avete anche qui la visualizzazione, ottima dell'anteprima di stampa, ok? Qui potete andare a vedere per il singolo layer, eccolo qua come viene creato l'oggetto, potete filtrarlo come al solito per solo un layer e basta, eccolo qui, oppure potete andare a modificarlo e vederlo per il tipo di estrusore, quindi se avete uno più extruder, vedete vi dice se sta lavorando col sinistro oppure col destro, il tipo di struttura è in fill, solid fill, bridge, inner, outer, support, eccetera, insomma sono tutti chiari con i bei colori, potete vedere le retraction, quindi potete andare a vedere se sta facendo delle retraction o meno, eccole qui, le vedete qui in rosso, queste crocettine che vedete qui, potete anche andare a vedere il travel, quindi che giri fa, se avete no travel move, non ve li fa vedere, se avete i travel move attivi, vi fa anche vedere, come tutti gli slicer, che cosa sta facendo, quindi classicissimo, speed, quindi se c'è variazione di velocità nel profilo di stampa, ok, di solito l'infil è un po' più veloce, eccetera, eccetera, e la layer height, perché qui potete gestirlo ad esempio per, se fate delle variazioni di altezza di stampa, questa cosa qui ve la visualizza nel, come si chiama, in questa visualizzazione, ve la visualizza in questa visualizzazione, come parte finale, qui potete gestire come al solito gli start, gli energy code, tutte le solite belle cosine insomma, e dopo cosa abbiamo, vediamo l'hows, tutta quanta la parte relativa allo stringing, è fatta benissimo, questa parte qui invece della thin wall, single extrusion width, se vi ricordate quel video che ho fatto del convogliatore dell'aria, è identica a quella di Simplify 3D, se andate a vedere su Simplify 3D, nella parte other, scusate, advanced, avete più o meno la stessa identica, la stessa identica funzione, eccola qui, vediamo se riesco a spostarla, eccola qui, che la vedete meglio, eccola qui, queste due cosine qui sono le stesse praticamente di Simplify 3D, quindi come vedete moltissime analogie, decisamente più aggiornato, questo qui di Idea Maker, tra l'altro per chi ha una raise, è fenomenale, perché vi permette direttamente di collegarsi alla stampante, cioè ad esempio io qui ho la E2 qui in laboratorio, io posso collegarmi direttamente alla stampante, vedere cosa sta facendo, ok, al di là del fatto che sì, io ho praticamente lo schermo LCD, posso mandare in stampa e tutto, oppure posso decidere di caricarlo direttamente nel cloud della stampante, vedete, upload to raise cloud, raise cloud, attenzione, vi spoilerò una serie di video che ho intenzione di fare, molto molto bella e che sto preparando, vi dice niente, print farm, gestione di molte stampanti con OctoPrint, ecco vi do un piccolo spoilerino, quindi con raise cloud potete fare questo, eccolo qui, qui vi fa vedere tutte le stampanti che avete connesse, e poi questa qui è la E2 che avete visto prima, questa qui la posso vedere anche da casa, direttamente dall'iPad e tutto quanto, ma queste cose qui un po' di acquilino in bocca ve la faccio venire, e vi spiegherò in dettaglio anche qui come funziona, vedete cosa ha caricato, se sta lavorando, se non sta lavorando, e potete anche mandare in stampa da remoto, ovviamente se questa cosina qui è attiva oppure no. Per concludere, sì vi confermo, è decisamente il mio slicer preferito al momento, il più completo per quanto mi riguarda, qualche pecca ce l'ha, nel senso che nella gestione del bridging abbiamo individuato un paio di bug con i nostri patrons, ho già segnalato la cosa, in parte l'hanno risolta, vediamo se con la prossima release la risolvono del tutto, però vedete sono piccole piccole cose, quanto a qualità di stampa nulla da dire, veramente ottima la gestione delle cuciture, dei supporti inimovibili, ha tante tante funzioni, e veramente gli oggetti non possono non venire fuori male, cioè non possono venire fuori male, nel senso che ho sbagliato veramente tutto, però devo dire ottimo veramente come programma. Questa parte introduttiva è terminata, come vedi il software è molto 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 buono, tantissime potenzialità, vi offre nuovi spunti per, diciamo, per migliorare ancora le vostre stampe, per quanto riguarda invece i profili dell'artiglieri, che molti mi hanno chiesto, sono disponibili già per Idea Maker, qui sotto in descrizione trovate i link, e sono disponibili per i patrons, come al solito. Direi che per oggi è tutto, vi ringrazio, se qualcosa non ti è stato chiaro, qui sotto in descrizione lascia un commento, se il video ti è piaciuto un bel like, e se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale, dopo esserti iscritto al canale, Ding Ding, attiva la campanellina, che così ti arrivano gli avvisi di tutti quanti i video. Grazie, per oggi è tutto, e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!